Io sono Emilia Collina, mi occupo di psicologia, sono una psicologa. Ho partecipato a questo incontro con Luca Mazzucchelli perché avevo la curiosità di stare con lui una giornata dal vivo, dopo averlo seguito per tanto tempo sul video. La giornata di oggi mi è piaciuta molto perché ho trovato conferma di quello che avevo intuito, cioè che diversi approcci, quello di Luca, quello di Gennaro, quello di Gerry, che si possono integrare benissimo e questo l'ho sperimentato e è stato molto interessante. Il livello di competenza di ognuno di loro mi è sembrato davvero fuori dal comune e poi sono simpaticissimi.